Siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV, in primo piano anche quest'oggi Parliamo di calcio, con il calcio mercato che entra sempre più nel vivo per Ancona e Ascoli, le nostre formazioni della prossima Lega Pro Cominciamo da casa Ancona perché dopo Nicola Moretti, ufficializzato ieri e oggi un altro acquisto, stavolta in difesa Il direttore sportivo Sandro Marcaccio ha chiuso per l'ex Arezzo Emilio Dierna Neppure è il tempo di annunciare Nicola Moretti ed ecco il secondo acquisto dell'Ancona Sandro Marcaccio ha chiuso col difensore Emilio Dierna nato a Gela nel 1987 Centrale roccioso fisicamente strutturato che avrebbe potuto aspirare a ben altra carriera per le potenzialità Gli esordi in serie D col Cosenza, poi il passaggio al Grosseto in B, esperienza che dura poco Poi due campionati in C2 con la San Giovannese e addirittura quattro col Poggi Bonze di cui ne diventa il capitano Infine, lo scorso anno il ritorno tra i direttanti con l'Arezzo Sono particolarmente felice perché era, a parte un motivo anche di orgoglio perché arrivare in una piazza come Ancona Comunque è un motivo di soddisfazione Per me sarà un'esperienza importante di crescita, sono convinto potrò fare bene con questi colori Come è nata la trattativa con l'Ancona? Sono venuto giù ad Ancona dieci giorni fa a parlare col direttore, col presidente, ci siamo conosciuti così di persona Dopo dieci minuti, anche meno, io già avevo capito comunque che persona avevo di fronte Quindi di conseguenza mi è piaciuto subito il loro modo di approcciarsi, di lavorare Quindi mi sono trovato subito a mio agio Il direttore è un nuovo di calcio In questi anni ho avuto la sfortuna di conoscere diversi direttori E ti dico il direttore Marcaccio è una persona che nel mondo del calcio è considerata una persona seria E' un tesoro avere a che fare con una persona come lui, sinceramente Ancona come la puoi considerare nella tua carriera? Per me è un punto di, non di arrivo, ma neanche di partenza Un punto in cui voglio affermarmi e fare qualcosa di importante, ecco In Casascoli invece continuano le indiscrezioni, le voci Tanti nomi appuntati sul tacuino del direttore generale Gianni Lovato L'ultimo, secondo il portale AscoliNews.it Quello della centrocampista Marco Armellino In uscita dalla regina Questo sarebbe il rinforzo giusto da affiancare nel centrocampo Bianconero a Carpani e Capece Dalla procura, dai procuratori di Armellino Per il momento non ci sono commenti né dichiarazioni in tal senso Armellino comunque rientrerà dal prestito dalla Cremonese Che gode del diritto di riscatto sul giocatore La regina però ne detiene il cartellino che scadrà il prossimo 2015 E in questo momento, avendo una difficoltà economica da risolvere Il club calabrese potrebbe anche pensare di fare cassa cedendo alcuni suoi giocatori Ed in questo senso ecco perché l'Ascoli si muove proprio su Armellino Questo per quello che riguarda il calcio Parliamo ora di pallacanestro Perché se chiusa la stagione 2013-2014 Si pensa già alla prossima E allora vengono definiti il quadro di chi potrà giocare in Serie A E nella A2 Gold e nella divisione Silver Ma anche i criteri di ripescaggio proprio per la stagione prossima Allora al posto di Siena in Serie A La lista delle squadre che possono prendere il posto appunto della stessa Siena Possono essere Monte Granaro Che è la prima tra le retrocesse dalla Serie A 1 E Capo d'Orlando che è la perdente della finale invece della Lega Gold Ma mentre l'Assutor non sembra avere la forza economica Prima ancora dell'intenzione di richiedere il ripescaggio Capo d'Orlando invece sembra più decisa a giocarsi il jolly della promozione a tavolino Quindi presentando domanda di ripescaggio Che consiste in una domanda con 350.000 euro di fideiussione Più altri 250.000 euro per la tassa di ammissione alla Lega Basket In tempi molto molto rapidi per perfezionare questa iscrizione E dunque nei corridoi della Lega Basket È sempre più complicata ed incerta la posizione di Monte Granaro Che pone un altro punto interrogativo anche per quello che riguarda la Lega Gold Esclusa appunto come abbiamo detto la via del ripescaggio in Serie A La Sutro sta cercando di capire se può iscriversi al campionato di Lega Gold Nel 2014-2015 Secondo alcuni rumors però l'ipotesi che sta prendendo corpo Sarebbe quella di chiedere di ripartire addirittura dalla Serie B Cioè il primo campionato nazionale dove il numero della venti diritto Sarà inferiore a quello delle iscrizioni E tra ripescaggi e wildcard si potrà completare l'organico delle partecipanti Proprio grazie anche alla richiesta eventuale della Sutro a Monte Granaro Ovvio che a Monte Granaro i tifosi giallo-blu Scongiurano quest'ipotesi di ripartire così lontano In confronto a quella che per tanti anni consecutivi era stata la dimensione Sutro Ovvero la Serie A Ma è pur vero che in questo momento i giorni passano e non ci sono delle soluzioni all'orizzonte Per sistemare la problematica economica Che invece diventa la cosa essenziale e fondamentale per iscriversi a qualsiasi tipo di campionato Nella stagione 2014-2015 Infine parliamo di volley perché venerdì si terranno i sorteggi per la Champions League L'UBE intanto, almeno molti giocatori della L'UBE si godono le vacanze Anche se sono molti di più quelli che sono impegnati con le rispettive nazionali nella World League Non è tra questi Enno che invece l'anno prossimo si ripresenterà ancora come il libero della formazione di Giuliani E tra una partita di beach volley e i vari impegni del volley camp estivi Proprio Enno dice orgoglioso di giocare con il tricolore sul petto Parole che sono riportate dal sito ufficiale della L'UBE Mi sto dividendo tra partite di beach volley E dice per tenermi in forma è l'esperienza di volley camp organizzati dalla società Una bella esperienza di collaborazione insieme ai tecnici Giuliani e Cadeddu Nei prossimi giorni mi concederò un po' di vacanze in Francia Che è la patria di Enno dove è sempre un piacere tornare Poi per quello che riguarda l'anno prossimo ovvero il 2014-2015 Il volley mercato in corso dice no E' partito un giocatore come Zaitsev Ma la nuova Cucina e L'UBE ha già giocatori molto importanti Ci cui contare che hanno appena conquistato il titolo di campioni d'Italia Sono quindi molto felici di fare ancora parte di questa squadra di altissimo livello Sarà il mio terzo anno in bianco rosso Sono già concentrato verso la stagione nuova Sarà un anno impegnativo Non dimentichiamo che saremo in corsa ancora una volta per la Champions League Oltre che per campionato Coppa Italia e Supercoppa Nel tempo libero conclude Enno Sto anche seguendo i risultati dei miei compagni di squadra La L'UBE impegnati nella World League E la nazionale francese che sta disputando buone prestazioni con i suoi giovani Ma insomma il pensiero di Enno è quello di poter giocare l'anno prossimo Il suo terzo anno con la L'UBE e farlo ancora una volta con il tricolore sul petto E a proposito di L'UBE Come abbiamo fatto ieri Continuiamo la nostra rubrica La nostra striscia In cui vi riproponiamo i servizi Degli eventi più significativi Delle vittorie più importanti Che hanno visto le marche protagoniste nel mondo dello sport E una di queste è proprio la conquista dello scudetto Ad opera della L'UBE nella finale contro Perugia Riviviamo l'ultima gara nel servizio Terzo scudetto per la L'UBE macerata Vittoria su un campo avversario contro una squadra Quella di Perugia che non ha regalato nulla Si chiude con il tricolore e in maniera splendida Una stagione complicata Iniziata alla grande Che non ha risparmiato però delusioni e momenti difficili Ma che si conclude con una grande prova di squadra e di carattere da parte di tutti Il sigillo Un'incredibile quarto set Che si chiude 33-35 Con un gran muro del centrale Podraskanin Votato come MVP del match Questo è lo sport più bello del mondo È impossibile trovare emozioni su uno sport diverso Ce l'hai vinta, ce l'hai persa, ce l'hai vinta E veramente questa è una partita che abbiamo vinto col cuore Se ne parlava prima negli spogliatori non c'era tecnica che teneva Dovevamo vincere solo con l'anima e ci siamo riusciti Cosa dico? Dico che l'ultimo è sempre il più bello E è più bello in particolare perché è l'ultima coppa a disposizione E ci farà passare una bella estate Quell'ultimo set è successo di tutto È successo veramente di tutto Credo che sia un bel set da ricordare, da vedere, da far vedere Alla videoteca della Pallafolo L'abbiamo chiuso noi contro una bella squadra come Perugia Che non ha mollato mai Quindi siamo ancora molto più contenti che è arrivato Con le unghie e con i denti questo scudetto Il capitano è un grande Ma adesso c'ha un pegno da fare Perché davanti a tutti Pesa 83 kg Me deve portare in giro Perché è una scommessa che deve pagare Era più difficile vincere il campionato, Ivan No, no, c'ha pello, c'ha pello E sulle immagini di quella che è stata la festa della Lube E le emozioni del tricolore di Macerata Chiudiamo questa edizione di Sport Day Prossimo appuntamento domani Il primo come sempre alle 19 in contemporanea Su Radio Center Music e su ETV Grazie per l'attenzione Buona serata